Davide Rossi, Assessore alla Cultura per la Provincia di Pesaro Urbino, candidato consigliere comunale con la lista Noi Città Seri Sindaco per le prossime elezioni del 25 maggio. Assessore, perché la cultura è così importante per la nostra città? Perché è la nostra principale risorsa in questo momento, è l'unica su cui forse possiamo contare davvero, abbiamo un patrimonio e una tradizione non delocalizzabile, a differenza delle altre attività economiche, questo patrimonio parla di noi, della nostra storia e ci offre delle prospettive molto importanti per il nostro futuro, quindi è ciò su cui possiamo far leva per riprenderci. Eppure tempo fa qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, è d'accordo? Ovviamente non è così, con la cultura si mangia, è una parte importante della produzione del reddito nazionale, crea molti posti di lavoro, attira turismo da tutte le parti del mondo, l'Italia e anche le marche sono conosciute nel mondo fondamentalmente per questo, per il loro straordinario patrimonio culturale, siamo la prima potenza culturale del mondo e per il mangiare bene, che è anche questo un aspetto culturale della nostra vita, quindi in realtà è una risorsa economica importante la cultura, ci tengo però anche a sottolineare il fatto che non possiamo ridurla solamente a un fatto economicistico, come siamo sempre abituati a fare in Occidente. L'uomo non è soltanto un uomo economico, non è soltanto un uomo chiamato produrre e consumare, c'è una componente per fortuna animica, spirituale, emozionale di ciascuno di noi, cui si rivolge principalmente alla cultura che è un'attività spirituale direi proprio, quindi teniamo presente che le attività culturali e il patrimonio culturale hanno un valore anche se non producono in maniera immediata reddito, lo fanno in maniera indiretta, ma dobbiamo non commettere l'errore di dare valore alle attività culturali e anche quindi alle relazioni umane soltanto se producono reddito. Quindi quali sono gli aspetti culturali su cui intervenire ed investire per la nostra città? Secondo me sono due le due caratteristiche forti della nostra città in campo culturale, una è quella della classicità, l'enorme patrimonio classico legato all'antica origine romana che ha questa città e quindi penso alle mura, penso all'arco di Augusto, penso al teatro romano che oggi è stato colpevolmente lasciato abbandonato, penso al Vitruvio e alla Basilica che intanto proprio in questi giorni stiamo cercando come assessorato la cultura della provincia e poi c'è la parte legata alla contemporaneità, cioè Fano ha negli ultimi 10-20 anni sviluppato un'attitudine in questo senso, mi riferisco al festival Il Violino e la Selse che era un festival di musica contemporanea molto interessante, mi riferisco soprattutto al festival jazz che caratterizza le stati della nostra città, mi riferisco al teatro, al teatro contemporaneo per ragazzi e alla sassegna teatro oltre che si lega alla stagione teatrale della contemporaneità, noi abbiamo queste due grandi vocazioni, città classica con un patrimonio archeologico importante da utilizzare anche in chiave economica per il turismo internazionale e la parte legata alle manifestazioni delle espressioni culturali contemporanee, queste due cose coniugate insieme possono essere la carta vincente della nostra città. Assessore, di questi tempi i fanesi hanno un po' paura delle promesse non mantenute, cosa devono aspettarsi i suoi elettori? Devono aspettarsi che se entrerò a far parte dell'amministrazione nuova e farò l'assessore alla cultura porterò dentro l'amministrazione la mia visione, la mia grinta e la competenza che ho sviluppato in questi anni sui temi culturali e non mi limiterò a organizzare alcune iniziative, cercherò di fare entrare in tutti i settori dell'amministrazione una visione culturale coerente, questo vuole dire che oltre a dover puntare molto anche in termini di investimenti sul settore della cultura, tutto il resto dell'azione amministrativa dovrà essere conforme a quello che facciamo, quindi vuole dire uno sviluppo urbanistico di un certo tipo, ad esempio ordinato, di qualità, che punta soprattutto a recuperare invece che a costruire, a distruggere il paesaggio, a consumare il suolo, vuole dire una pubblica istruzione che sia mirata a sviluppare l'educazione alla vita, non solamente i libri per i bambini, per i ragazzi, vuole dire quindi agire in ogni settore amministrativo avendo un progetto complessivo che è quello di sviluppare una città di grande qualità con una consapevolezza della propria forza culturale. E ora? E' ora di fare cultura per fare città. Il 25 maggio vota Noi Città, seri sindaco. Nella scheda azzurra scrivi Rossi.